La mia storia è la mia storia di Giorgons Oggi siamo ora? Questo deve essere la base di operazioni di Giorgons Tuttavia, la storia di Giorgons Non posso stoppare la televisione Il Gester non ha la jewel Al qualcuno di altri deve studiare Ma perché non lo fanno vedere? Ma scusami. Giustamente, è la parte più importante che la tv sia andata a cablui. Ma scusa, Jorgen è qui, è qua sotto. Ma perché non lo girano alla telecamera e lo fanno vedere? E che cos'è? Ah, il muffin, è vero. Quello che fanno vedere anche nel film. Eh, allora, aspetta che vado a prenderla. Presa. Eccolo qua, Jorgen. Eh, ci starnutiamo sopra. Oh, scusami. Scusa, volevo farli finire. Sì, signore. Oh, no. Oh, no. Mmm, questo sembra delizioso. Pixi sugar, mooncap, milk of Phoenix, egg and super strong hair raising flour? Che miseria, un uovo di fenice, tanta roba, eh? Giustamente. Tutto si può trovare su internet. Ah, beh. No, scusa, perché c'è il dollaro con un computer? Esisteva già il delivery in quest'età. Oh, no, vichi di merda. Vicky, she's gonna eat my ingredients. Quickly, Timmy, get down there. What is this trash? Flour, sugar, an egg. Oh, milk. I am kinda thirsty. Beh, no, il latte. Did you say sugar? I need some sugar to power my newest invention. And I just ran out of flour. Oh, no. E allora non dovremmo toccarle se è di nostro figlio. Well, noi riuscimmo per essere generosi. Ma dai! Che stronza l'uovo! Ah, no, dai, ancora intero. È proprio una merda. Vicky è sempre stata una merda. Sai che ti giuro non me ne ricordavo questa parte. Possiamo andare a cercare un bizzarre avventure. Ah, beh, scusami. Non credo che si mostrano il crash nebula? No. Puoi usarele per locare i miei ingredienti mississimi. Per riuscire a una scena con un'immagine e attivare. Sì, signore. Allora, abbiamo questo qua il tutorial, giusto? Ah, no, questi sono i nostri record. Sono tutti i nostri obiettivi. Ci dici cosa c'è in ogni livello. Ci sono 300 monete fisse. Ci sono due Cloverleaf che sono le foglie di trifoglio. Sei sticker per ogni livello e un videoclip in ogni livello. Ah, beh, questo cos'è? Ah, è il sogno di papà. Perfetto, è già qui. Scusami. Ah, è Jorgen. Scusa, dicevo, cos'è sta stella? Questo a me ricorda molto il terzo gioco di Crash Bandicoot dove c'hai tutta la sala con i livelli ma puoi entrarci solo quando hai abbastanza, diciamo, stelle per entrare. Questo invece? Take it on the chin. Ah, possiamo già scegliere fra due livelli. Allora, io direi di andare in ordine prima. Andiamo al sogno di papà. Home Improvement. Sì, signore. Ecco lei. Che si è addormentato il signore. Ma vai perché gli serviva lo zucchero? No, no, non togliermi lo zucchero, ti prego. Mi serve. Vieni qui. Vieni. Ti prego, non prendermelo. No, mi serve per vivere. Madonna mia, che cattiveria. Che cattiveria. Vabbè, la versione è facile. The very old parenting. Ted's dream. Veramente come ogni schermata di ogni episodio, queste cose. È bellissimo. Giustamente. Sì, signora. Dobbiamo distruggere il sogno di nostro padre. Chissà che cosa farà questo vestito. Ci prende e ci butta fuori. Grazie. Se ne vada, per favore. Allora, abbiamo, quanto abbiamo detto, 150 monete. Ecco qui una stellina. Eccoli la seconda stellina. Questo sta dormendo, quindi vuol dire che non possiamo svegliarlo e prenderlo. Ah, è il fiume dei sogni. È conveniente, no? Facciamola allora, prima però, prendiamo la stellina. E ora ci serve l'ultima stellina. Dove potrebbe essere? Eccola là. Mi scusi stellina. Ma ho bisogno di lei. Il ferro da stiro? Il ferro da stiro? No. Ah, beh, scusami. Ma dai. Ah, beh, dai. Per le aree scure questo ci sta tantissimo. Quindi abbiamo bisogno di prendere, eccola qui. Tutte le falene possibili. Venga con me, signorina. E me ne manca ancora una, mi sa, eh. Ah, guarda, qua ci sono dei soldi, ma... C'è del liquido. Rosa. Ah, no. Pensavo che era liquido, invece ci posso entrare. Scusami, gioco. Ho visto un'altra lampada. Dov'è che era? Non lo so, però qui c'è un computer. Che cosa fa? Non lo sappiamo. Va bene, ora che abbiamo la nostra lampada delle idee, possiamo ammazzare il vestito. Aiuto! È comodo perché vediamo nelle aree scure, questo sicuramente. Questo vuol dire che ci saranno aree buie che noi dovremmo affrontare. Scusami un attimo, se lo disattivo. Ah, il light bulb è sempre attivo. Perfetto. Quindi serve sostanzialmente come oggetto passivo per prendere le falene e per fare... Cos'è stato questo suono? Una metafora? Ah, è proprio là dietro, proprio dietro di te, Timmy. È proprio là dietro, guarda un po' il caso. Allora, prendiamoci la falena. Mi chiedo se me ne serva una o due, cioè... Perché prima ne abbiamo prese due... E il tipo lì è morto. Quindi le luci più forti... Mi toglie le mie falene. Falena, torna con me, per favore. Una luce più forte distrugge le mie falene. Aiuto! Bellissima l'animazione. Oh, mi sta ammazzando. Dobbiamo fare quindi attenzioni... Ai vestiti, sì. Alle luci più potenti. Eccola lì, appunto. Allora, disattiviamolo un attimo. Ci prendiamo la monetina. Ah, questa va a intermittenza. Ok, con calma. Prima di tutto facciamo un salvataggio. Giusto per sicurezza. Lì c'è una rana che probabilmente mangerà le mie falene. Ma scusami, ma questa va a intermittenza o va a caso? Vabbè, intanto mi prendo la falena. Aspettiamo che si spenga. Eccola, si è accesa. Ora si spegne. Ecco fatto. Aspettiamo di nuovo che si spegne. E ora passiamo. Ecco qua. Perfetto. La nostra falena ce l'abbiamo sana e salva a questo giro. E ora però c'è la rana. La rana mi preoccupa. Mi fa pensare che se la magna. Questo lo posso spostare? Sì che lo posso spostare. Lo devo spostare in acqua? È molto probabile. Ah, per evitare probabilmente la ranocchia. Oh, calmo. Oh, l'ho vista muoversi. Vada via. Ma Timmy, perché scivoli? Eccoci qua. Attento. E il vestito è andato. Vai. Ecco fatto. Perfetto. Salve signora ranocchia. Qua sicuramente ci sono delle viti da svitare. Uno degli oggetti sarà sicuramente un trapano che ce le farà svitare. Sicuro. Oh no, sono caduto nell'acido. Mio padre sogna l'acido. La cosa buona è che avendoci respawnati lì, siamo tornati qui con la falena. Non so se ci servirà o meno, ma l'importante è averla, no? Voglio arrivare a 200 di questi... Guarda che furbi. Guarda che furbi delle balle. Ti mettono qua già una di queste lampade così se vuoi portarti dietro la falena dal livello... Dalla parte prima non te la puoi portare. Furbi loro. E non ti può... Ah no, invece aspetta. Aspetta un attimo. Ah, aspetta. Che... A parte che c'è... Ecco fatto. C'era un utensile cattivo che mi stava sfercando... Di menare. Disattiviamo la luce. Che però attiva l'altra. Ovviamente. Questo sicuramente non ci porta da nessuna parte. Calmo, vai via. Vabbè. Prendiamoci la falena. Disattiviamo la luce da questa parte. E facciamo mangiare alla falena il vestito. Te, manglielo. Aiuto! Oddio, l'animazione è bellissima. Intanto però prima ci prendiamo anche i soldi perché si sa mai. Qua ci sono un sacco di porte con queste viti. È probabile che dovremmo tornare in queste parti. Dove devo andare? Da questa parte. Perfetto. Quello è un alieno? Ah, no, è... Ah, sono dei vermi di luce. Ti giuro che... Non l'avrei capito se non avresti visto il filo sotto. Giuro. Allora, qui c'è un'altra falena che ci portiamo dietro per compagnia. Qua c'è un'altra lampadina intermittenza. Aspettiamo un attimo. E corriamo. Ecco fatto. Non ho preso tutti i soldi, però prima distruggiamo il vestito. Vai, distruggi! Aiuto! Sta cosa qua di sto vestito è bellissima. Ti giuro che mi fa morire come si muovono. Dobbiamo tornare al negozio, tra l'altro. E qui abbiamo uno, un quadrifoglio. Due, dei soldini. Grazie. Qui abbiamo altre viti da svitare. E tra l'altro non abbiamo ancora trovato neanche un... Come si chiama? Un desiderio. Probabilmente in questa zona non ce ne sono. Come si chiama? Come voi sapete questo? Nel caso, i soldi sono trattati in modo che è un'esistenza umana, ma io! Quindi, come se questa leva si tratta questa parte del padre del padre? Speriamo. Clink! Mmm, dovrò tirare questa unica leva che c'è. Trasformiamo quella barca da gelato a una barca vera e propria. Oh, bene. Ah, tutti i desideri li troviamo sempre nella zona iniziale. Ok, andiamo a stimolare di più il cervello di mio padre. Eccoci ritornati nella zona iniziale. Quindi, beccati questo. Dov'è la stellina? Eccola lì. Da zardarei, vieni qua. Questa qui è stata già molto più veloce come cosa di livello. Cioè, abbiamo già trovato subito le seconde stelli. Eccola qua. Ed ecco anche l'ultima. Vieni qui da me. Non ti faccio nulla di male. Non è un'altra parte da questo grande blocco di metallo che abbiamo visto. Si sembrava molto pesato. Oh, il metallo è pesato. Una volta ho trovato una pancia sul mio piede. Non ho mai fatto questo ancora. Eccola per le altre volte che ho fatto. È pesato, ma anche magnetico. Mi piacerebbe un supermagneto ultra potente. Si, signore. Ho fatto un errore, Timmy. Scusate? Questo è bello, ragazzi. Ma non è un supermagneto ultra potente. È un supermagneto ultra potente. No! Ragazzi, è bello. Stoppiti di sbagliare. Abbiamo lavoro da fare. Non l'ho capito, questa. Scusami, eh. Now you can move this metal block with your ultra magnet. Scusami. E quel 5 là sopra che cosa... Che cosa mi significa? Allora, qua c'è un sacco di robine. Quindi probabilmente qua si continua. Però nella parte di prima abbiamo trovato... Aspetta, questa è una citazione. Questo è il trofeo di papà. Qui è dove avrei messo il mio trofeo se ne avessi uno. Dai tempi. Quindi non ha senso adesso che torniamo nella parte precedente. se non abbiamo già l'altro desiderio. Desiderio che probabilmente ci fa svegliare queste cose. Quindi, visto che abbiamo le monete, entriamo nel negozio. Abbiamo 200 monete. Abbiamo detto... Con 200 monete possiamo avere i super bouncy pants. Qua ancora non c'è nulla. Qua c'è quello delle stelline. Non è così utile per adesso. Qua non c'è ancora niente. Aspetterei ancora un attimo. Aspetterei magari i prossimi livelli. Così vediamo che cosa ci donano i vari negozi. Perché metti caso che con 350 o 250 monete mi danno qualcosa di utile. Almeno me le tengo da parte, no? Ovviamente, tutti i vestiti. Vieni con me. Ma sta musica di ipertensione. Spacchiamo ancora un po' il cervello di mio padre. Allora, abbassiamo un po' quello che è la musica. Perché in questa zona mi sembra sia abbastanza altina. Ah, ok. Se cambio oggetto... Ovviamente, eh. Se cambio oggetto, però... Non riesco a capire cosa sta facendo. Ah! Ho capito. Se tengo premuto... Se tengo premuto... Spara... Cioè, faccio il magnete. Che cosa fa? Se tengo premuto, fa il magnete. Se invece... Schiaccio solamente, spara. Interessante. Ah, aspetta. Questo vuol dire... Che ci sono altre monete nascoste. Bastardi. Ecco dove le nascondono altre monete e non ti fanno prendere tutto quanto. Hai capito. Scusa un attimo. Poteva sembrare che ci fosse qualcosa di nascosto lì, eh. Lo ammetto. Falena. Eccola qui. E ora uccidi il vestito. Aiuto! Allora. Vieni qua. Che così. Vediamo cosa c'è nascosto. Soldi? Finalmente. Cinque monetine. Però... Oh. Sempre meglio di nulla. Allora. Qui c'è un'altra porta. Intelligente sta cosa del tenere premuto che ti fa... Come si dice? Smagnetizzare le cose. Invece se... Se lo premi solamente ti fa sparare. Ah... Eh, ho capito. Ma fammici andare. Scusami. Mezz'ora per farmi vedere l'animazione. Però poi... Ah, ho capito. Allora, te. Magna. Sì, ho capito. È inutile che mi fai vedere per i primi 15 secondi l'animazione di lei che è rutta. Scusami, eh. Vieni con me. Ecco fatto. Dov'è? Magnetelo! Aiuto! È bellissimo sta stronzata. Ci prendiamo un altro po' di munizioni che ci serve. Grazie. Cioè, la prima parte dell'animazione di sta cacchio di rana è lei che mangia. E stai lì. Ad aspettare che passa. Ecco qui. Un po' di pinze cattive. Sì, forse il potenziamento della culata dovrei prenderlo, eh. Forse. Non sono così sicuro che sia così utile. Però a sto punto. Meglio risparmiare. Ecco appunto. Meglio risparmiare un po' di soldini che si sa mai che potrebbero essere utili, no? Altro nemico? No, soldini a questo giro. Grazie. Ah, uno sticker. Fantastico. Ma i sticker, poi, dove li vedo? C'è una collezione, c'è una sezione dove io posso vedere questi sticker. Dove è solo... Hai trovato lo sticker di papà? Ah, ok, bene. Disattiviamo anche questa porta. Altro nemico? No, altri soldini. Grazie. Ecco qua, facciamo un salvataggio. Questo cos'è? Ah, è il vermino qua della luce, come quello di prima. Ok, allora, aspetta un attimo. Fammi avvicinare la... Ah, aspetta, ma le pedane... Le pedane sono da questa parte. Allora, aspetta un attimo. Attivalo. Passiamo. No! Porca miseria. Speriamo che il tempo basti. Ok, sì, dovrebbe bastare. Dai, su, 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 torna indietro, torna indietro, torna indietro. Ecco fatto. Perfetto. Tubatura attivata. Grazie di averci ridato la luce. Ora siamo più tranquilli. Io intanto le munizioni ce le ho. Perfetto. Ma non mi serve neanche sparare. Gli faccio prima a saltargli in testa che così li sciotto. Cioè, se gli sparo li... Li confondo solamente, così li uccido subito. Disattiviamo queste porte. Nemico? Ovviamente. Oh, calmo. Calmati un attimo. Questo? Nemico anche da questo lato? No, questa volta soldini. Grazie. Vediamo anche di qua. Oh, io vi giuro che tutta sta cosa non me la ricordavo di... Uh! Ma è bianco questo. Perché è bianco? Oh, non lo sapremo. Per qualche motivo quello è bianco. Li stordisco solamente se gli sparo. Oh, calmo, aspetta. Le monete ci servono. Allora, qui abbiamo una falena. Qui abbiamo un vestito. No, stranamente no. Qui c'è un'altra falena. Questo vuol dire che ci serviranno tutte e due. Molto probabilmente. Controlliamo subito. Ok, ok. C'è la rana. Questo vuol dire che prima gli devo sparare per confonderla. Credo. Altro sticker. Papà, giustamente. Oh, un sticker. Faccila in un sticker. Ah, no, aspetta. Forse vuol dire che una gliela devo far mangiare e una me la devo portare dietro. È molto probabile. Però ci serve la luce? No, non credo. Allora, a cosa mi servivano le falene? Scusami. Ok, abbiamo sbloccato le stelline verdi. Giustamente. Dobbiamo solo togliergli lo dog adesso. Scusami. A cosa mi servono le falene? Cioè, non c'era un vestito in questa zona. Perché avrei dovuto portarmene? In teoria mi serve in questa zona. Ma in pratica, scusami. Se io vengo da questa parte e me la prendo da qui. È uguale. Cioè, non aveva senso quella parte lì con la falena. Vabbè. Andiamoci a prendere il terzo desiderio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.